Probabilmente sono già fuori tempo massimo per parlare di questo argomento, visto che ieri sera c'è stata la partita tra Juve Lazio, domenica quella tra Napoli e Genoa, quindi l'argomento non è più fresco. Per gli standard attuali di YouTube che ti impongono di parlare di qualcosa 5 secondi dopo l'uscita sui giornali o comunque l'avvenimento in questione, sono in ritardo, però mi auguro comunque che possiate ascoltare il mio discorso. Non è legato alla partita della Juve, alla partita del Napoli, perché questo discorso sul campo non c'entra niente, cioè non conta a livello di gioco ma a livello umano se vogliamo. Ho visto gli addi di Insigne al Napoli e di Dybala e Chiellini alla Juve, degli addi che hanno portato chiaramente a emozioni particolari da parte dei tifosi e posso dire, vista la mia esperienza da tifoso della Roma, visto che ho assistito agli addi di Totti e dei Rossi, che vi capisco. Alt, attenzione, non sto facendo nessun tipo di paragone tra uno e l'altro perché poi so bene come funziona. Su YouTube molti si divertono proprio a uccidersi, tra virgolette, verbalmente, anche solo se dici una cosa piccolina che non mi sta bene. Io non sto dicendo che Dybala e Chiellini sono come Totti e dei Rossi, parlo dell'emotività che ha portato il loro addio alla maglia che stavano vestendo fino a quel momento, ai pianti dei tifosi, ai pianti dei protagonisti, all'emozione che tutto ciò ha portato allo stadio in quel preciso momento. Non sto qui a dire che la colpa è della società, la colpa è del giocatore, perché in questi casi, quando un giocatore non rinnova e se ne va via a parametro zero, come nel caso appunto di Dybala e Insigne, si fa sempre il gioco al trovare il colpevole. Se la colpa è del giocatore che poteva rinnovare per amore della maglia, se la colpa è della società perché non ha fatto, non ha proposto un rinnovo adeguato alle qualità del giocatore in quel momento, e ci sono tantissime cose che secondo me non verranno mai chiarite del tutto. I giornalisti si divertono un po' a fare l'annuncio sia di Dybala che ha detto no perché vuole andare all'Inter, è la società che gli ha voluto offrirlo in nuovo a ribasso, stessa cosa Insigne. Diciamo che di solito, però, quando il giocatore è parecchio amato, si tende più a colpevolizzare la società piuttosto che lo stesso giocatore. Stessa cosa è successa ad esempio alla Roma, Totti e dei Rossi se ne sono andati, chiaramente qua non c'era una colpa loro perché entrambi possibilmente sarebbero rimasti. La società non mi ha proposto un rinnovo sotto quel punto di vista, nel caso di Totti gli aveva messo sotto mano un contratto come dirigente, quindi è chiaro che a livello calcistico pensava che ormai il più era fatto, e quindi in quei casi ci sono state parecchie critiche. Poi nel nostro caso ci fu anche Spalletti che venne accusato appunto di non aver gestito bene il capitano nella sua ultima stagione, ma qui stiamo andando un pochino fuori tema. Come ho detto ho visto le scene, ho visto le immagini, ho visto i video in questione, e devo dire che da esterno, da persona che a livello sportivo non apprezza né la Juve e né il Napoli, ma non che le odio, semplicemente non mi dicono nulla, non ho mai tifato per loro in Europa, ma non perché voglio che perdano, ma perché io tifo solamente una squadra, due se consideriamo anche il Gubbio che però è una seconda squadra, non è quella principale, ammetto che mi sono emozionato. Mi sono emozionato perché ho visto nei volti dei giocatori un'effettiva tristezza per la chiusura del loro percorso con quella maglia. Sicuramente erano già consapevoli che ciò sarebbe avvenuto, magari si aspettavano che succedesse più tardi, magari che avvenisse un pochino prima, però sono quel genere di situazioni che non riesci mai a vivere, comunque non riesci mai a capire finché non ci arrivi. Cioè Dybala sicuramente già sapeva da settimane, forse mesi che non avrebbe rinnovato, però quando arrivi al momento dell'addio non puoi fare altro che rimanere emozionato perché tutto lo stadio era lì per te. Penso che tutte le persone che sono andate allo Juventus Stadium della partita se ne sono fregate altamente, cioè poco gli importava della vittoria della Juve, poco gli è dispiaciuto del pareggio all'ultimo secondo della Lazio, magari a qualcuno può aver dato fastidio, a me per esempio avrebbe dato fastidio perché comunque voglio sempre che la mia squadra vince, però quando vai in questo genere di partite, considerando anche che il tuo obiettivo te l'ha riportato a casa, l'unica cosa che vuoi fare è tributare un saluto a giocatori che hanno fatto la tua storia. E per me chi è lì? Ha fatto la storia della Juve. Anche Di Bale in modo diverso, però Chiellini è un giocatore storico, cioè io non ricordo una Juve senza Chiellini, sono 17 anni con la stessa maglia, poi che a qualcuno possa stare antipatico? Io sono d'accordo, è un giocatore un po' particolare, un difensore a tratti anche macellaio diciamo, che non va troppo per il sottile quando c'è magari da fare falli brutti per interrompere azioni pericolose, lo fa senza problemi, lo sappiamo come è fatto, non è un giocatore che scopriamo solo adesso, però a livello comunque professionistico è un giocatore che va rispettato, cioè comunque non ha mai usato parole fuori posto al di fuori del campo, sul campo si era irruento ma fino a un certo punto antisportivo, è un giocatore comunque che ha fatto la storia del proprio club e della nazionale, secondo me, e comunque ha fatto una carriera importante perché è rimasto anche quando la situazione non era favorevole, perché è più facile restare nella Juve che vince tutto, lui comunque è rimasto anche quando la Juve è scesa in Serie B e quando collezionava settimi posti per due stagioni consecutive, quindi su tutto questo punto di vista gli va dato merito. Poi, lo ripeto, a me non è mai stato troppo simpatico, però quando guardi scene come quelle di ieri sera, è chiaro che un po' ti emozioni, vedere i tifosi, vedere i ragazzini piangere per l'addio di questi giocatori, è sempre emozionante perché comunque capisci che in qualche modo stai andando avanti con gli anni. Ecco, quando vedi gente come Messi, 35enne, Ronaldo, 37enne, Chiellini che lascia la Juve, Totti e De Rossi che hanno ormai lasciato il calcio giocato da diverso tempo, capisci che stanno passando il tempo in cui tutti questi giocatori erano veramente al loro massimo, sia a livello tecnico ma anche a livello di età, diciamo, e capisci anche che si sta facendo un rinnovo generazionale che magari alcuni di noi non siamo pronti a vedere, a notare. Ancora molti di noi pensiamo che i giocatori siano eterni, che anche a 40 anni, 50 anni, possano fare le stesse cose che facevano prima, ma purtroppo non è così. Cioè, per i calciatori, come per gli esseri umani, normali, il tempo passa e quindi bisogna saper accettare queste cose. Come ho detto, Chiellini è giusto che magari abbia lasciato, però è chiaro che ti lascia un'emozione importante, stessa cosa di Bala. Sappiamo tutto il discorso del rinnovo e tutto, però veramente ho visto nei suoi occhi un dispiacere sincero per l'addio alla maglia bianconera. E devo dire la verità, qua faccio un attimo un'apertura e chiusura parentesi di calciomercato, per quanto l'Inter sia chiaramente la squadra interessata, che può offrirgli maggiori garanzie dal punto di vista dell'ingaggio, di Champions League, eccetera, eccetera, mi sa molto difficile vederlo lì. Nel senso, lo avrei visto sicuramente fino a prima della partita, però per come è stato salutato, sapendo poi la rivalità che c'è tra i due club, mi sembra strano. Poi può succedere tranquillamente, magari domani firme alla maglietta dell'Inter esposta. Però ammetto che mi farebbe strano, un po' come quando, non sto facendo paragoni, Totti ha lasciato la Roma e qualcuno pensava che sarebbe andato a giocare in America. Vedendo un po' come si è salutato con i tifosi, mi sembrava molto strano, ed infatti poi ha deciso di chiudere la carriera professionistica, anche se probabilmente in parte avrebbe anche voluto continuare a giocare nel calcio e poteva tranquillamente farlo in una squadra medio-passa del nostro campionato. Detto questo, poi anche per Insigne c'è un altro discorso da fare, sempre con discorso di rinnovo, a ribasso e tutto, ma nonostante qualcuno abbia criticato quello che è successo per considerandolo un pochino ipocrita, io credo che anche in questo caso ci sia un saluto sincero, perché per quanto riguarda il rapporto napoletani-giocatori di Napoli, è una cosa molto simile a quella che viviamo noi qua, romanisti con romani e romanisti. Ho fatto un discorso strano, però, quando gioca in campo un giocatore che è napoletano, così come nel nostro caso uno che è romano, tipo Pellegrini, i tifosi sono sempre un pochino più pignoli, sono sempre un po' più rompicoglioni, scusatemi il termine, guardano i difetti in maniera ancora più netta e i pregi in maniera meno evidente, perché li danno quasi per scontati. Io credo che Insigne abbia fatto veramente tanto per la maglia del Napoli e sicuramente si è impegnato al 200% per fare il meglio con questa maglia. Può non esserci riuscito sempre, come ogni essere umano, però sono convinto che per la maglia ha dato veramente tutto, tutto, anche se poi l'addio è stato un po' precoce, visto che comunque ha 31 anni, 32 anni, quindi poteva ancora sicuramente restare qualche anno in più in Italia, però il fatto che abbia scelto un club estero piuttosto che un italiano che sicuramente si sarebbe fatto avanti se il giocatore avesse mostrato interesse, fa capire che comunque non ha il cuore, non ha avuto e non ha il cuore di giocare contro la propria squadra. Andare al Toronto vuol dire praticamente uscire dal panorama calcistico europeo e quindi evitare appunto di incontrare la squadra che ha fatto parte della tua vita e lo farà parte per sempre. Quindi anche guardando quelle immagini mi sono emozionato, soprattutto guardando i tifosi, perché lì mi rivedo un po' io quando appunto ho visto la De Di Totti e De Rossi. Molti possono dire che il calcio non è importante, che è uno sport che a livello emotivo deve essere gestito in un certo modo, sicuramente è vero, magari qualcuno lo viveva un po' troppo seriamente, però di fronte a questo genere di situazioni non puoi rimanere impassibile e dire vabbè chi se ne frega, cioè comunque sono parti anche della tua vita se vogliamo, perché comunque io nella mia vita considero anche questo come aspetto non fondamentale ma importante e vedere appunto i giocatori che dopo tanti anni che hai dato per scontato vestissero quella maglia andarsene via ti fa un po' strano. A me personalmente comunque è dispiaciuto, chiaramente non come se fosse andato via un giocatore della stessa Roma, però sono situazioni che ti fanno capire che il calcio è veramente lo sport più bello del mondo. E quindi niente, voglio fare questo video semplicemente per dirvi le mie sensazioni a riguardo e basta. Fatemi sapere invece voi nei commenti cosa ne pensate, se giudicate comunque in maniera negativa questi addi perché secondo voi il giocatore doveva restare, quale giocatore doveva restare, rinnovi eccetera eccetera. Fatemi sapere come avete anche vissuto queste situazioni, visto che in due giorni ci sono stati tre addi comunque importanti per il calcio italiano o comunque per i rispettivi club di provenienza. Vi lascio se volete una richiesta di iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi anche su tutti gli altri miei profili social che lascio come sempre qua in descrizione. Un saluto a tutti e ovviamente sempre Forza Roma. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti.